La prima cosa che emerge è che l'angina pectoris esiste, esiste molto più di quanto noi si pensi che possa esistere anche dopo una rivascolarizzazione miocardica, sappiamo per esempio da studi diventati famosissimi come il Courage che a distanza di 5 anni, una quota non trascurabile di pazienti ha ancora angina, nonostante sia stata rivascolarizzata, sappiamo che in molti casi l'angina non viene documentata o non viene censita perché il sintomo non è quello tipico anginoso ma è un equivalente anginoso, ad esempio la dispnea e quindi in molti casi potrebbe passare inosservata, però in buona sostanza quello che noi sappiamo dalla letteratura è che dopo una sindrome coronarica acuta in pazienti anche rivascolarizzati, vorrei dire in modo ottimale, nell'arco dei successivi pochi anni il sintomo anginoso è comunque prevalente e tale da condizionare la qualità e la quantità di vita. Proprio alla luce del fatto che in molti casi la sintomatologia anginoso è subdola perché non si manifesta con il classico sintomo del dolore retrosternale da sforzo o da stress irradiato magari alla gola o al braccio ma si manifesta con profonda astenia piuttosto che sintomi disnoici, è importante andarli a cercare, slatentizzare perché qualora identificati e catalogati come equivalenti anginosi porterebbero doverosamente il medico, il cardiologo nello specifico a fare alcuni esami che permetterebbero di chiarire bene la genesi, di chiarire bene la anatomia coronarica e di ricorrere alle soluzioni ideali che vanno dalla terapia medica ottimale imprescindibile comunque alla rivascolarizzazione meccanica o chirurgica. Quindi non ignorare sintomi similanginosi, non pensare che il dolore angina sia sempre solo retrosternare al petto irradiato al braccio o alla gola, pensare che esistano gli equivalenti anginosi perché così facendo risparmieremo eventi da una parte e accelerando i tempi della diagnosi, del riconoscimento e dell'intervento terapeutico o interventistico ovviamente impatterremo favorevolmente anche sulla spesa sanitaria inevitabilmente perché questi pazienti se trascurati potrebbero avere un destino tale per cui poi sopravvivendo il ricorso alle cure mediche sarebbe completamente diverso da quello che sarebbe quello di un profilo ideale in cui l'angina viene riconosciuta, il paziente viene trattato al meglio e la prognosi è decisamente migliore. Per quanto riguarda il trattamento raccomandato, posso citare le ultime linee guida ESC del 2019 per la gestione della sintomatologia anginosa o similanginosa in pazienti coronaropatici, purtroppo andrebbero fatte delle puntualizzazioni e dei distinguo perché vengono raccomandati farmaci di vecchia generazione, voglio dire verosimilmente per motivi economici, farmaci di vecchia generazione dei quali non c'è nessuna evidenza che impatti in maniera significativa sulla prognosi, per cui in buona sostanza le linee guida del 2019 così come quelle del 2013 precedenti hanno continuato a supportare in prima istanza l'utilizzo di betabloccanti o calci antagonisti, in seconda battuta i nitrati a lunga durata d'azione e addirittura in terza battuta farmaci decisamente più innovativi con un profilo di sicurezza decisamente migliore quali i Vabradina e vorrei dire Ranolazina che per, ripeto, verosimilmente motivi economici vengono penalizzati. Di fatto non c'è nessuna evidenza che il ricorso sistematico ad esempio ai calci antagonisti soprattutto nei primi due o tre anni dopo una sindrome coronarica acuta impatti favorevolmente sulla prognosi, anzi evidenze di registri importanti europei direbbero il contrario e invece ci sono chiare evidenze che ad esempio sulla qualità di vita e sulla sopportabilità della terapia che va sopportata dal paziente ci sono nuove molecole, le ho dette ad esempio i Vabradina e Ranolazina su tutte, che sicuramente potrebbero fare la differenza. Purtroppo siamo tutti vittime di un sistema che predilige i costi piuttosto che altri aspetti e quindi anche in questo ambito vengono raccomandate molecole più vecchie che sulla carta dovrebbero costare di meno ma che sicuramente su sintomi a qualità di vita non necessariamente, anzi quasi sicuramente impattano meno di molecole più nuove. Una parola che abbiamo speso in tanti per tanto tempo sui nitrati a lunga durata d'azione sono farmaci che vengono raccomandati in seconda battuta, in alcuni casi anche addirittura potrebbero essere considerati quasi in prima battuta quando tutti noi sappiamo che il nitrato a lunga durata d'azione purtroppo non è una strategia idonea per i nostri pazienti con sindrome coronarica cronica. Tra l'altro le linee guida hanno giustamente detto che la terapia antischemica nel paziente con sindrome coronarica cronica è una specie di vestito targhettato o tagliato su misura per il paziente che abbiamo di fronte. Noi con il nuovo documento di consenso abbiamo proprio ragionato in questa direzione, abbiamo cercato di dare delle raccomandazioni che fossero una specie di vestito tagliato su misura per il nostro paziente, quindi considerare la sua pressione, la sua frequenza cardiaca, la sua sintomatologia da una parte e i suoi fattori di rischio dall'altra, in modo tale sicuramente non esiste il farmaco migliore e il vestito che vada bene per tutti i pazienti. Esistono farmaci che si adeguano alle caratteristiche del paziente e in base alle caratteristiche del paziente noi dovremmo, potremmo scegliere il farmaco giusto. Nel documento di consenso nuovo abbiamo spinto in questa direzione che tiene conto per esempio del paziente di sesso femminile che ha certe caratteristiche per il quale farmaci come la ranorazina possono essere indicati, pazienti che abbiano invece frequenza e pressione arteriosa contenute per i quali i canonici beta bloccanti piuttosto che i calcio antagonisti, piuttosto che i nitrati a lunga durata d'azione non possono essere utilizzati e farmaci invece innovativi come più innovativi per modo di dire, ormai sono cenericati, farmaci più innovativi come trimetazidina vorrei dire anche, ma sicuramente i Vabradini e Ranorazina che non hanno nessun impatto emodinamico dovrebbero essere la scelta migliore a prescindere dalle norme burocratiche ed economiche.